Siete pronte oggi a scoprire l'ultima generazione dei robot da cucina Chef-O-Matic 12 funzioni in uno nella versione standard o deluxe a un prezzo esclusivo? Allora aspettate e restate con noi! Avete speso una fortuna in elettrodomestici ma una funzione che promettevano di farvi rispermiare tempo ma che ora occupano solo spazio? E quando li usate dovete sfregare e strofinare per pulirli? Ora non più! Ecco a voi il robot da cucina multifunzione Chef-O-Matic! Arrostisce, scotta, griglia, cuoce, fa fondute, soffrigge, cuoce in camicia al vapore, bolle, fregge, scalda e scongela tutto in un unico strumento! Cucinare pasti fatti in casa, sani e deliziosi non è mai stato così facile! Basta digitare la temperatura di cottura, impostare il tempo e il gioco è fatto! Chef-O-Matic cucina quando non ci siete! Si spegne da sola così quando tornerete a casa troverete una minestra o uno stufato pronti da mangiare! Chef-O-Matic si scalda in metà tempo rispetto a un forno ventilato e consuma il 50% in meno di elettricità! Non serve aggiungere burro o olio perché è antiaderente e cucina anche i cibi congelati! Il segreto è nella tecnologia a confezione a correnti incrociate che non richiede prediscaldamento e cucina in modo più veloce e efficace con minor consumo energetico rispetto ai robot da cucina! Mano mano che il livello di calore penetra da sotto l'aria passa attraverso e circola circondando il cibo cuocendo in modo uniforme all'interno e all'esterno preservando così i nutrienti e i liquidi del cibo! E con il coperchio in vetro temperato trasparente potrete sempre vedere cosa c'è all'interno senza togliere il coperchio! Con Chef-O-Matic non c'è bisogno di grassi e oli aggiunti né di calorie superflue così potrete cucinare in modo sano a basso contenuto di grassi! Ha un cestello profondo di dimensioni standard con superficie super antiaderente per alimenti che non si macchia, non brucia, non crepa e non si spela ed è al 100% priva di PTFE! Aggiungete la griglia per cottura al vapore per una bontà ancora più genuina e a cottura ultimata si spegne da solo così il vostro cibo non è mai troppo cotto, poco cotto o bruciato! Anche la pulizia è semplice e veloce, basta un panno e se dovete sfamare ancora più persone ecco per voi la versione Chef-O-Matic Deluxe con capacità di 5 litri! Sì, abbastanza capiante per le vostre cene più ambiziose, può diventare una casseruola per arrosti, una pentola per cottura a fuoco lento, un tegame per fonduta, un forno olandese, una casseruola per stufati, una griglia, una risottiera, un cuocipasta, una vaporiera, una friggitrice, uno scaldavivande e molto altro! Salve e benvenuti allo show! Oggi vi mostreremo come cucinare pietanze incredibili in modo facile e veloce! Ma sì Mark, facile e veloce! L'abbiamo sentito migliaia di volte! Certo! Gli altri le sparano grosse, ma questa è davvero la più grossa di tutte! Si tratta del nuovissimo robot da cucina multifunzione Chef-O-Matic 12 in 1! 12 elettrodomestici in 1! Lustratevi gli occhi su questo strabiliante piatto di pasta alla marinara con polpette di carne! È così facile da fare! Potete preparare le polpette di carne da zero oppure comprarle già pronte e versarle nel cestello, poi aggiungete il sugo alla marinara e la pasta asciutta, mescolate, impostate il tempo e la temperatura di cottura e lasciate bollire! Aspetta un attimo, pasta asciutta! Puoi scommetterci! Con Chef-O-Matic la pasta assorbe davvero il sugo e tutto il sapore mentre cuoce! Quindi non c'è bisogno di usare una pentola extra per cuocere la pasta, un'altra casseruola per cucinare il sugo e una padella per cucinare le polpette di carne! C'è molta meno confusione e solo una pentola da pulire! Puoi scommetterci! Ora Chef-O-Matic è davvero la pentola delle meraviglie anche per minestre e stufati! Guardate quello stufato di manzo fatto in casa! Molto meglio dello stufato in scatola ed è tutto naturale! Nessun conservante così è anche più sano! E il gusto è di gran lunga migliore se è cotto a fuoco lento! Puoi scommetterci! Per prima cosa ho scottato i pezzi di manzo, poi ho aggiunto i piselli, le patate, tutto l'occorrente, un po' di brodo, ho impostato il tempo e la temperatura di cottura, l'ho lasciato cuocere a puntino a fuoco lento e voilà! I risultati parlano da soli! Così sano e facile da fare! Non c'è bisogno di rimanere a controllare, basta impostare il tempo di cottura e ritornare quando è pronto! E c'è di meglio! Chef-O-Matic contiene ben tre litri di questa minestra di pollo a dadini fatta in casa! Ce n'è abbastanza per sfamare quell'esercito di bambini che avete in casa! Oh lo so, io ne ho due, non la smettono mai di mangiare! Chef-O-Matic è anche una casseruola per stufati, perfetto per questo stufato di patate e formaggio! Sembra fantastico ed è uno dei piatti preferiti in famiglia! Versate nel cestello frittelle di patate congelate o patate a fiammifero precotte e asciutte! Coprite con il vostro formaggio preferito! Mescolate, completate con altro formaggio, impostate tempo e temperatura di cottura! Chef-O-Matic farà il resto tutto in una sola pentola e voilà! Perfettamente cremoso, appiccicoso, formaggioso, wow! Devi provarlo! Buono eh? Quel gusto di formaggio è davvero magico, così buono! E ricordate che Chef-O-Matic cuoce le patate ancora congelate! Potete risparmiare molto tempo non dovendo scongelarle! Questa è la forza della tecnologia della convezione a correnti incrociate di Chef-O-Matic che cucina il cibo in modo uniforme all'interno e all'esterno anche se congelato! Cibi e sapori grandiosi sono scontati con Chef-O-Matic e c'è di più! Chef-O-Matic è dotato di un cestello per friggere! Aspetta, è anche una friggitrice? Potete usare olio di oliva salutare per il cuore! Inserire il vostro fish and chips preferito! Calatelo nell'olio e lasciate che la magia accada! Ora potrete cucinare tutti quei cibi da ristorante che amate proprio nella vostra cucina! Come fish and chips, patatine fritte e anelli di cipolla fritti, calamari, ali di pollo e cosce di pollo! E non dimenticate quelle ciambelle fatte in casa il sabato mattina che i bambini adoreranno fare e mangiare! Ma aspettate! C'è altro? Guardate questo! Chef-O-Matic è una vaporiera, una risottiera e anche un cuoci vivande a più piani! Grazie alla griglia per cottura al vapore! Sopra ho filetti di salmone fresco con un mix di verdure fresche croccanti cotte al vapore e sotto ho riso che cuoce al vapore! Nessun grasso aggiunto! Aggiungo del riso con un po' di acqua sul fondo del tegame, aggiungo la griglia con i filetti di salmone e lo contorno con le mie verdure preferite! Imposto tempo e temperatura di cottura ed è fatto! Il processo di cottura per convezione a correnti incrociate trasforma l'acqua in vapore di cottura che avvolge il cibo per una cottura al vapore uniforme e dal gusto incredibile! E guarda questo filetto di salmone! Lo metterò proprio qui! Guarda come si sfalda bene! È un pesce perfetto! Devi assolutamente provarlo! Si scioglie in bocca, vero? Non è incredibile! Il sapore è eccellente! È così buono! Io adoro il cibo al vapore perché preserva tutti gli aromi e nutrienti naturali e la cucina più piani fa risparmiare molto tempo! Si possono cucinare bistecche sotto e patate sopra, pollo alla griglia e verdure sotto, mentre si scaldano le tortillas sopra, oppure una frittata con bacon e verdure sotto, cuocendo al vapore girelli alla cannella sopra! E con la superficie super antiaderente non c'è bisogno di grassi o oli aggiunti, né di calorie superfile. Uova, formaggio e tutti i diversi alimenti scorrono e scivolano nella padella senza attaccarsi e senza nessun tipo di grasso o olio! Le pentole antiaderenti con rivestimento in PTFE vengono reschiate facilmente, contaminando il cibo. Chefomatica ha un rivestimento multistrato super antiaderente che viene fuso alla pentola di cottura, per cui non può venire raschiato via, né bruciare o spelarsi ed è al 100% privo di PTFE! Quindi è sicuro per la vostra famiglia e poi è così facile pulire la pentola con una spugna o un panno umido, ma c'è di più! Chefomatica è anche un girarrosto! Un girarrosto! E la griglia di fondo per arrostire! Grazie alla griglia per arrostire sul fondo potete semplicemente prendere il pollo, metterlo sopra e circondarlo di tutto ciò che volete, con tutte le verdure di questo mondo, in questo modo! Aglio, il mio preferito! Un po' di spezie fresche sopra, così! Un po' di sale, un po' di pepe, un altro po' di spezie e poi copro con il coperchio! Imposto tempo e temperatura di cottura ed ecco fatto! Posso uscire! Chefomatica cucinerà mentre sono via! E con la griglia per arrostire tutti i grassi colano via per una cottura più sana! Ok Mark, come scelgo tempo e temperatura esatta? Chefomatica è dotato di un ricettario completo con tempi e temperature di cottura da impostare per decine di diversi tipi di alimenti e piatti, così eviterete la fatica di dover tirare e indovinare! Mentre il pollo cuoce voi potrete essere altrove, non bloccati in cucina e quando ritornerete non dovrete fare altro che sollevare il coperchio e avrete un pollo cotto come al forno, a fuoco lento, pronto da servire! Tutti adoreranno Chefomatic! Funziona come un forno convenzionale ma richiede meno tempo per scaldarsi, minor tempo di cottura, consuma meno energia, occupa meno spazio, non surriscalda la cucina ed è facile da usare! per una cottura sicura al 100% con risultati professionali! E ricordate, Chefomatic è anche disponibile nel formato deluxe da 5 litri! Perfetto per le cene di famiglie numerose, aperitivi e incredibili parti con cena! Qui nel mio ristorante usiamo Chefomatic per molti dei pasti che prepariamo! Mi piace perché è davvero utile! Invece di tirare fuori un mucchio di pentole e tegami, posso preparare i miei pasti con un tegame solo grazie a Chefomatic! Abbiamo molte varietà culinarie internazionali sul nostro menù e Chefomatic può prepararle tutte in modo più veloce e più efficace! Come carni, stufati, fino ai classici come il tortino di carne inglese! Non ho mai usato niente di facile e utile come Chefomatic! Ecco perché lo uso ogni giorno! Chefomatic è la magia che cercano tutti coloro che amano cucinare un pasto straordinario senza passare ore in cucina! Puoi vederlo con i tuoi occhi! Questa bella entrecotte di manzo contornata da verdure rosolate è cotta alla perfezione! Beth, guarda qui! Bello! E praticamente senza nessuno sforzo hai un entrecotte di manzo con questo aspetto! E se ti piace l'aspetto sentirai il sapore e lo adorerai! È buona? È succulenta, tenera e deliziosa! E con Chefomatic tutti e dico tutti possono cucinare come i cuochi di professione! Con Chefomatic cucinare è davvero veloce, facile e divertente! È il robot da cucina che non metterete mai da parte perché lo userete ogni singolo giorno! Cibi e aromi fantastici sono davvero scontati con Chefomatic! Ora vi mostrerò quanto è facile preparare ogni pasto del giorno con Chefomatic! Dalla colazione al pranzo, agli spuntini pomeridiani, fino alle cene e ai dessert! È l'unico robot da cucina di cui non potrete fare a meno! Ecco come ordinarlo! Ecco a voi il robot da cucina multifunzione Chefomatic! L'incredibile robot da cucina compatto 12 in 1 che arrostisce, scotta, griglia, cuoce, fa fondute, soffrigge, cuoce in camicia, al vapore, bolle, frigge, scalda e scongela tutto in un unico strumento! Cucinare pasti fatti in casa, sani e deliziosi non è mai stato così facile! Basta digitare la temperatura di cottura, impostare il tempo e il gioco è fatto! Chefomatic cucina quando non ci siete, si spegne da sola così quando tornerete a casa troverete una minestra o uno stufato pronti da mangiare! Chefomatic si scalda in metà tempo rispetto a un forno ventilato e consuma il 50% in meno di elettricità! La vostra famiglia adorerà le vostre ricette! Non serve aggiungere burro o olio perché è antiaderente e cucina anche i cibi congelati! Il segreto è nella tecnologia a confezione a correnti incrociate che non richiede prediscaldamento e cucina in modo più veloce, efficace e con minor consumo energetico rispetto ai robot da cucina! E con il coperchio in vetro temperato trasparente potrete sempre vedere cosa c'è all'interno senza togliere il coperchio! Con Chefomatic non c'è bisogno di grassi e oli aggiunti né di calorie superflue! Ha un cestello profondo di dimensioni standard e con superficie superanti aderente per alimenti che non si macchia, non brucia, non si crepa e non si graffia ed è al 100% priva di PTFE! Potete aggiungere la griglia 3 in 1 per cuocere al forno al vapore e a più piani! Posizionatela sul fondo per lasciare il cibo in sospensione permettendo al calore di circondarlo su tutti i lati per una cottura al forno e una grigliatura più veloci che permettono ai grassi di colare via! Avrete tutto il fresco aroma dell'arrosto senza il grasso! Basterà ampliare e alzare la griglia per una straordinaria cottura al vapore che trattiene i liquidi e gli aromi naturali con un cibo cotto al vapore alla perfezione, sano per il cuore e delizioso! E a cottura ultimata Chef-O-Matic si spegne da sola così il vostro cibo non è mai poco cotto, troppo cotto o bruciato! Anche la pulizia è semplice e veloce, basta un panno! Usatelo come casseruola per arrosti o come pentola per cuocere a fuoco lento, come un tegame per fonduta, come forno o per stufare, grigliare o come risottiere e cuocipasta, come una vaporiera, una frigitrice o uno scaldabivande e molto altro! Un robot da cucina multifunzione professionale e facile da usare, l'unico inimitabile robot multifunzione Chef-O-Matic e può essere vostro proprio ora, a questo prezzo incredibilmente basso! Chef-O-Matic è disponibile in due versioni, quella da 3 litri oppure la versione deluxe da 5 litri per feste a misura di re, scegliete quella più adatta a voi e alla vostra famiglia! Oggi in esclusiva il robot da cucina Chef-O-Matic 12 in 1 nella versione standard da 3 litri o deluxe da 5 litri, con il coperchio in vetro temperato, perfetto per cucinare stufati, pasta e molto altro! Includeremo anche il ricettario Chef-O-Matic, pieno di appetitose ricette facili e veloci, ma aspettate! Ordinate adesso e riceverete anche la griglia 3 in 1 per cuocere al forno, al vapore, a più piani, assolutamente gratis! Potrete comprare una dozzina di elettrodomestici diversi oppure averli tutti riuniti in un unico strumento, con il robot da cucina multifunzione Chef-O-Matic, oggi a questo prezzo esclusivo! Esatto, il set completo! Chef-O-Matic è disponibile nella versione standard da 3 litri o deluxe da 5 litri, con coperchio in vetro temperato, ricettario e griglia 3 in 1 per cuocere al forno, al vapore e a più piani! Un valore incredibile, al prezzo di fabbrica, un'occasione imperdibile! E chiedete alle nostre operatrici il cestello per friggere in modo professionale e realizzare fish and chips, patatine fritte e tutti i vostri cibi fritti preferiti con la qualità del ristorante, a casa vostra con Chef-O-Matic! Affrettatevi per ricevere l'inimitabile robot da cucina multifunzione Chef-O-Matic a questo prezzo esclusivo!